Musica Lo ricordo che ha curato insieme all'amministrazione e al corpo forestale dello Stato i dettagli della iniziativa. Poi sarà spesso lui che provvederà ad adornare gli alberi con la targhetta. Buongiorno a tutti, io sono uno dei rappresentanti del CEA Pinolo Ricato, centro di educazione ambientale attività dalla rete Regis, una regione basilicata. Chi mi ha preceduto ha praticamente detto tutto. Io vorrei soltanto aggiungere una configurazione. Considerate che ogni albero che mi ha raffiantato ha portato il nome di questi bambini, magari sarà testimone di tutta la loro vita, perché probabilmente viverà più di loro stessi. Noi auguriamo tutti almeno 100 anni. Però magari potranno tornare in questo pacchetto sotto l'albero con il proprio nome, con i figli di prima, con i poti fuori. Quindi questa è l'importanza che vogliamo dare agli alberi. Ma non solo quelli che chiediamo oggi, ma in generale a tutti. Quindi teniamo presente questa cosa e cerchiamo di rispettare gli alberi, la natura, l'ambiente, anche con gli altri semplici, soprattutto tutti i giorni. Io con questo mi fermo, perché il vento è stato ben detto, non è anticipato. Adesso scegliamo e andiamo direttamente a mettere le targhettine vicino all'anno. Grazie.